In un'intervista rilasciata al settimanale OG, Albano Carrisi ha commentato l'indiscrezione sulla presunta gravidanza di Christelle. L'artista ha sottolineato che la figlia e suo marito Davo Luxic tengono molto alla loro privacy. Dunque, anche se dovessero aspettare un figlio, non sbandierebbero di certo la notizia ai 4-20. Albano ha affermato che quando Christelle ha deciso di convolare a nozze con Davo Luxic pensava erroneamente di stare per diventare nonno. Quando si è sposata io pensavo lo facesse perché era incinta, lei mi disse di no. La figlia gli disse anche che in caso un giorno fosse rimasta incinta avrebbe mantenuto il segreto. Quando sarà non te lo dirò perché tu hai troppi amici giornalisti e rovineresti la sorpresa. Christelle Carrisi e Davo Luxic si sono sposati a Lecce il 3 settembre 2016. La coppia tiene molto al rispetto della loro privacy. Nonostante siano entrambi dei personaggi esposti alla luce dei riflettori, non accettano che la loro vita privata venga passata al setaccio dai media. Anche Albano ha confermato, suo marito non ama che il privato diventi pubblico. Quindi lei a me non ha detto niente. Nei giorni scorsi è apparsa su Instagram una foto che ritrae Christelle Carrisi con un pancino sospetto. L'immagine, poi, è stata prontamente rimossa. In proposito, l'artista ha commentato, ho visto la foto che gira. Ma finché mia figlia non dice qualcosa io non commento. Lei è la madre, è suo diritto decidere se cosa dire. Chi se ne frega.